La chiesa del Santissimo Crocifisso di Belvedere sarà restaurata. La notizia è giunta direttamente dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Cosenza, che ha predisposto i lavori di sommorgenza che saranno eseguiti da una ditta specializzata. La loro durata dovrebbe essere di un mese. La decisione è scaturita subito dopo il sopralluogo effettuato da Fabio De Chiviche e Giuseppina Mari, a far muovere immediatamente la Soprintendenza e il Crocifisso, lineo realizzato nel XVIII secolo dallo scultore napoletano Giacomo Colombo, un'opera di inestimabile valore che le copiose infiltrazioni di acqua piovana avrebbero potuto rovinare. Pertanto la Soprintendenza sta pensando anche di traslocare il crocifisso prima dell'avvio dei lavori. Il luogo di culto è stato chiuso l'11 luglio scorso su invito del parroco Don Giovanni Alessi, che aveva parlato di una vera e propria emergenza. La chiesa, in cui i lavori iniziavano nel 1599, è a rischio crollo, soprattutto il soffitto, completamente intavolato, presente in alcuni punti degli avvallamenti. Subito dopo l'alt della Soprintendenza i cittadini si erano rivolti al sindaco di Belvedere Enrico Granata, che aveva subito spento le speranze di una perentoria restaurazione, per cui ci sarebbero voluti circa 70 mila euro con un secco, non ci sono soldi. Ora la buona notizia, giunta da Cosenza, ha subito restituito il sorriso ai fedeli, che si erano ormai abbandonati nell'idea che la chiesa, a causa delle solite lungaggini, sarebbe rimasta chiusa per molto tempo. Grazie a tutti.